Diego Pablo Simeone, allenatore emblematico dell'Atletico de Madrid, ha avuto il privilegio di parlare del sorteggio di Champions League prima della sfida contro il Getafe. In questo discorso il ciolo ha scavato nel suo passato accennando all'imminente scontro con l'Inter guidata da Simone Inzaghi, suo ex compagno di squadra alla Lazio. Con uno sguardo cauto e rispettoso, Simeone ha riconosciuto la complessità intrinseca della Champions League, evidenziando la formidabilità di tutti gli avversari. Ha elogiato il momento attuale dell'Inter, soprattutto il suo rendimento nel campionato nazionale. Ricordando le gesta dell'Inter nella precedente edizione di Champions League, Simeone ha espresso la sua ammirazione per il comportamento della squadra in campo. Il suo apprezzamento non si limita alla squadra, si estende alla figura di Simone Inzaghi e del mitico Avier Zanetti. Simeone, naturalmente, ha evocato ricordi indimenticabili del suo breve, ma intenso, soggiorno a Milano, esaltando le esperienze vissute in città. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale per ricevere le ultime novità dall'Inter. Nelle parole dell'allenatore del Colconero riecheggiava l'aspettativa di un confronto duro e impegnativo. Simeone ha espresso la voglia della sua squadra di lasciare il segno, di confrontarsi intensamente con gli avversari. La prossima partita promette di essere più di una semplice competizione sportiva. È uno scontro ricco di storie e di significato per l'allenatore argentino, che cerca di guidare il suo atletico attraverso una sfida complessa. Affrontare l'Inter, sotto la gestione di un ex compagno di squadra come Simone Inzaghi, porta un ulteriore elemento di profondità emotiva e rivalità. Il legame emotivo di Simeone con Milano e i suoi caldi ricordi della città aggiungono uno strato di emotività a questa resa dei conti imminente. Il ricordo del periodo trascorso nei corridoi dell'Inter permea sicuramente il suo discorso e le sue strategie per affrontare la sfida. L'approccio di Simeone, pieno di rispetto e riconoscimento, segnala non solo preparazione tecnica, ma anche riverenza per la storia e la grandezza dell'Inter. Il suo sguardo attento al passato e al presente plasmerà il percorso dell'Atletico in questo emozionante incontro. Cosa ne pensate delle parole di Simeone? Commenta qui sotto!